Chi era? Quale volto aveva l'uomo il cui scheletro è stato ritrovato 50 anni orsono nella cisterna della Villa Romana Cosa, nei pressi di Anzedonia? Grazie alla sinergia e collaborazione tra Polo Museale della Toscana Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, la ditta Antequem e l'Associazione Odisseus, torna alla ribalta un celebre caso risolto, lo scheletro della omonima Domus di Cosa, per la prima volta dalla scoperta avvenuta nel 1970 a cura dell'American Academy di Roma, esposto al pubblico nel museo. Cold Case, caso freddo, è un termine inglese entrato nella terminologia corrente con cui si indicano tutti quei casi, generalmente di omicidio o di persone scomparse, che sono rimasti senza un esito e pertanto sono da considerarsi irrisolti. La riapertura di un caso può basarsi sia sulla emersione di nuovi elementi, sia su una diversa interpretazione degli elementi già presenti e proprio nuove tecnologie sono spesso alla base della richiesta di riapertura delle indagini. Così avvenuto per lo scheletro di Cosa, rinvenuto all'interno della cisterna dell'abitazione, dove deve essere finito a seguito di un evento drammatico che ha distrutto anche la colonia latina, che gli studiosi americani hanno ipotizzato fosse un'incursione di pirati, avvenuta intorno al 70 a.C. Se al momento le analisi al carbonio 14 su un campione prelevato non hanno dato esiti significativi, l'analisi statistica condotta dall'Università di Siena delle componenti principali, effettuata su determinate misure craniometriche, consente di formulare nuove ipotesi sull'etnia dell'individuo, mentre la ricostruzione dei lineamenti del volto ce lo rende più vicino e familiare. Le indagini e le ricerche continuano, ma sarà possibile conoscere parte dei risultati, venendo a Cosa domani alle 17.30 con l'inaugurazione del nuovo allestimento nel giardino della Casa dello Scheletro.